Era attesa da tempo la partenza dei lavori per le scogliere di Metauriglia a Fano e oggi il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanisi, ne ha comunicato ufficialmente l'avvio. Il cantiere è stato consegnato questa mattina alla presenza della ditta e del provveditorato di Ancona. Lavori molto importanti di un importo di 4 milioni frutto di una collaborazione fatta negli anni scorsi con la precedente amministrazione regionale e con anche RFI che si sono impegnati rispettivamente per 2 milioni circa di euro, quindi un investimento molto importante appunto a iniziare un'opera che secondo noi è strategica per il turismo, per la difesa della costa ma anche per migliorare la qualità della vita di quella zona. Tra una decina di giorni arriveranno i primi pontoni per iniziare l'opera di salpamento delle scogliere che ci sono ma sono praticamente a riva mare. Verranno spostate molto più indietro con ovviamente un'aggiunta di materiale in più rispetto a quello che è già presente che arriverà dalle isole croate tramite navi di trasporto, quindi tutto ovviamente via mare e verranno posizionate a partire dal fiume Metauro verso sud. Quanti saranno i segmenti e quale sarà la tempistica? Allora i segmenti sono 6, più sono stati considerati due piccoli pennelli a monte e a valle dell'intervento per evitare effetti di bordo. Sono lunghi circa 200 metri ciascuno, ha proseguito l'assessore con dei varchi da 50 metri, così come da contratto i lavori dovranno terminare entro un anno. Sui tempi di realizzazione, precisa Fanesi, incideranno le condizioni meteo-marine e l'inizio della prossima stagione estiva. Il comune poi sta già programmando l'intervento per la difesa della costa da metà tra Torrette e Metauriglia fino all'hotel Playa, una zona nella quale andranno giunte anche sabbia e ghiaia nelle spiagge per poterle sfruttare al meglio. Inoltre la ditta che si occuperà delle scogliere di Metauriglia è la stessa che dovrà completare quelle di Sassonia. Ci hanno detto che finiranno breve, hanno obblighi e contratuali di finire entro la fine dell'anno, quindi noi crediamo che lo riusciranno a fare, anche perché essendo impegnate nel trasporto massi sullo stesso settore del mare Adriatico, i lavori non dovrebbero durare tantissimo. A riguardo a questo voglio ringraziare il grandissimo lavoro per quanto riguarda Metauriglia e la disponibilità anche del Proveditorato dell'Opere Pubbliche di Ancona con la dirigente, con il quale speriamo di poter continuare la collaborazione per finire il lavoro e chiudere tutto il paraggio fino a Torrette. Grazie.